Salve a tutti! Dopo tanto tempo, rieccomi a proseguire la serie dedicata a Planet Explorers. Mi sono reso conto che uno degli errori che avevo fatto finora è stato mostrare poco le creazioni fatte dagli utenti con questo gioco. Quindi eccovi un'armatura, degli scudi e delle armi prese direttamente dallo Steam Workshop e date sia al mio personaggio sia ai miei due seguaci. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Purtroppo dopo l'ultima formattazione del PC ho perso tutti i miei vecchi salvataggi, quindi ho dovuto rifare una partita ed arrivare nello stesso punto dove ci eravamo lasciati con l'ultimo episodio, che avevo rilasciato prima di infognarmi con No Man's Sky. Da allora ho anche tradotto il tutorial del gioco e sono andato avanti con la traduzione della campagna. Ho anche iniziato a tradurre i dialoghi della modalità avventura, oltre che alcune frasi degli NPC che avevo lasciato in sospeso. Subito dopo aver cercato le armi che vi ho mostrato pochi secondi fa, fatte tutte in acciaio, ho trovato un giacimento d'oro enorme proprio sotto l'accampamento marziano. Di conseguenza sono tornato a cercarmi nello Steam Workshop e delle altre armi in oro, molto più potenti, che ho equipaggiato ora. Lo scudo Creeper invece l'ho dato solo a me, dato che richiede quasi 300 unità d'oro per essere costruito. Ho anche comprato da Alfonso altri script per il fucile mitragliatore e quello da caccia. Da Nani invece ho preso quelli per l'arco d'oro e per le armature in acciaio, che ho dato alle mie due seguaci, dato che ho visto che queste non possono indossare le armature create dagli utenti. Nani ha preferito lasciarlo all'accampamento, dato che mi sa che ci vorrà ancora molto per fare una colonia ed utilizzarla per creare la nave necessaria alla sua quest. Noi! Noi! Noi abbiamo trovato un po' di l'arco, e Ava ha fatto la manuale, e, uh, sai la forma che si vola. Noi abbiamo fatti molto bene, a tutti i risultati. Ma prima di arrivare, è appena avuto questo, quindi... Noi siamo. Noi abbiamo trovato un po' di l'arco d'orco 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 d'orco. The interference wasn't overwhelming So we were able to see A couple of boats behind us Atara was pretty sure of it So he went south to gather up on survivors And then Agnes and Hitomi couldn't sit still And went exploring as well Finally, Ava She went with Peter due west She said that they were heading for the desert Something to do with the interference Ava and Peter went west? Did they say the exact location where they're headed? I'm investigating the interference as well She didn't tell me about it But Atara might know Since they were having a heated discussion about the location I thought this planet was cleared by the ISC What? Did they lie to us? If they knew about these aliens and sent us anyway Oh man, there will be hell to pay I didn't come here to fight a war Don't die out there Don't die out there Hey! You actually met up with her? When is she coming back? What did she tell you? That we had nine people? You see, Ava went with that Martian kid out west To investigate the strange signal interference And Agnes went somewhere to check out the animals I think Atara went searching for survivors Down the south near the coast It was a rough landing Since the initial guidance system Was interfered with the moment we left the hangar We all lived though We think it's some passing ice ball With random surface eruptions you see So the onboard evasion system Failed to detect it in time Still, a couple of people grumbled That it might have been sabotaged By the anti-colonializational organizations Can you believe that? Or the Martians, right, Role? Ha 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 Oh please That mean lady survived, huh? I guess it can't be helped Well, this certainly narrows it down On the possible sources for the interference Yeah, it's not like I can survive on my own Besides, I don't think I'd be too welcomed in an Earth camp I'd like to see us all together soon though No offense to Alfonso, but His division plan is stupid Uh, well Actually, you see I got my degree from the Martian Military Academy Because they had The best school of interspace communications But I had no interest in actually joining the fleet So joining the colony got me out of the military I do miss my parents though But they're scheduled to come in on the next ship What do you want now? Ah, so old man Carter lived He must be cursing up a storm Ha ha Ah, I'd feel much safer if Chen's around too How come they didn't come with you? Well now, if you want to know how to start building a settlement You should definitely talk with Otaro He came on this mission specifically for stuff like this He went somewhere south to look for survivors near the coast Let me mark on your map the general area You should go find him Well, I'm glad to hear that the Martian contingent has fared well Ah, but that arrogant fool Who does he think he is to make such a decision? This is borderline insubordination against our directive I don't agree with the segregation plan at all I didn't even know he was a nationalist He was very accommodating to everyone on the way over I'm sort of surprised by it as well I thought the whole point of coming here was to leave the petty squabbles behind But it seems Governor Skyrunner was the initiator of this plane So most Martians just went along with it Have a nice day What is it? What? You must be joking That means that they're the first sentient species that humans have ever made contact with Oh, wow I'm so glad I signed up on this trip now Our names will go down in the history books Uh, well, if they don't kill us first We kinda fought with them already I hope you're just joking Did you win? Hello While I've only tested a bit from around here But the pH levels are what we expected Around 5.5 Good for growing a lot of things Still, it would be nice to have some aluminum sulfate on hand To decrease the pH for some of the plants in our inventory Say, if you have time, can you go get me some? That's right, I'll show you how to make fertilizer if you get me these There should be some aluminum and sulfate located in the mountains west of here What is it? Great, let me give you the script for this basic fertilizer Now, let's try cultivating a field and doing a planting test to see if some of our earth plants will grow here Help me set up a 50 square meter field For that, you'll need this fertilizer sprayer Here Hey! Great job! I have some corn, potato and wheat seeds Plant and take care of them until they're ready for harvesting You'll need to make sure that they have a constant supply of water and are pest free Let me give you my insecticide script as well Get back to me once you see some results Our survival depends on us succeeding here Non mi resta che piantare i semi, prendendoli dall'inventario, innaffiare le neonate piantine ed aspettare La cosa bella di questo gioco è che anche in questo aspetto, al contrario degli altri survival, non è necessario merdare per ore nel farming È infatti sufficiente dormire di fianco alle piante per farle crescere facendo passare il tempo velocemente L'unica cosa da fare ogni tanto è annaffiare le piante e spruzzarci l'insetticida Ho notato che nelle nuove versioni del gioco è necessario dormire, però molte più notti che nella alfa Ah! I didn't expect to see a familiar face here! Did you come in on this craft? Hey! So they already have a base going? Damn martians! Always so organized, gotta give them that! Oh well, if Alfonso wants to play it that way, so be it! If we see any reds, we'll send them his way! I'm standing right here, you know Right I was on the team that designed the Centauri class ships So I know how much punishment they can take And it's a lot With that in mind, I don't think it was some asteroid that got us It has to be a weapon Or maybe sabotage An intelligent indigenous species? Well, damn! I guess it's time to dig up some of my old weapon designs from college Since we're stuck here, we'll need to let them know We don't mess around This one crashed pretty badly But there has to be at least one survivor And whoever it is survived long enough to dig these graves here No one's here now But see that animal trail going that way? I was planning on following it before you showed up And now that you're here Why don't you and the Martian girl come with us? We could use the backup We could use the backup Fine by me I agree with Alan We do need to build a settlement And gather up everyone Anyway Let's go Mr. Batar I also need to know where Ava's here went Right Everything you got Everything you got From the government Of the vehicles The Let's do For the By 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Purtroppo questo gioco è a causa di queste piccole pecche se è molto criticato. Ed è un peccato che le recensioni su Steam scendano con un gameplay così solido ed originale. A questo poi recentemente si sono aggiunte le dichiarazioni della Patea che ha annunciato di interromperne lo sviluppo finché non guadagnerà abbastanza con un altro titolo che sta rilasciando. Come avevo già detto recentemente sotto un video di indie gameplay vita, il problema più grave del mercato di video ludico moderno indie è che spesso titoli grossi come questo non vengono terminati perché i soldi finiscono e la software house non riesce a portare più avanti lo sviluppo. That we will get there for them. That we will not let their death be in vain. Now let's pause for a moment of silence. Well, that's that. Nice speech. Right. You ready? Ok, let's move out. Questo problema, a mio parere, sicuramente in molti casi è da attribuire a sviluppatori incapaci o di invena di truffe, come è stato con giochi come Ted e Vlingero Starforge. Ma in altri casi credo sia anche colpa del modello di marketing attuale che pubblicizza sempre ciò che è appena rilasciato in alfa, anche se di qualità inferiore, piuttosto che ciò che di buono c'è in sviluppo. E qui do gran parte della colpa anche agli YouTubers, che si vendono ai nuovi giochi per un pugno di mosche, invece che seguire ciò che è davvero figo e farlo conoscere. Non dovrebbe essere questo lo scopo di noi recensori e videogiocatori su YouTube? Per citare un altro caso analogo a questo molto famoso, non si può non ricordare Space Engineering, che dopo un po' dal rilascio ha pubblicato Medieval Engineering. Di certo non si può dire che questi giochi siano brutti, né tantomeno che Planet Explorers sia incompleto o pesantemente bagnato. Ma di sicuro questo titolo meriterebbe una migliore rifinitura. In ogni caso, amo questo gioco e credo che, nonostante lo sviluppo bloccato, il gioco può considerarsi completo e merita pertanto di essere più conosciuto. Per tali motivi io continuerò il mio gameplay ed invito altri a giocarci e pubblicizzarlo. Detto questo, vi do il solito arrivederci alla prossima.